Musica Incidente questa sera poco prima delle 22.30 in via Caporal Cattaneo, all'incrocio con via Vallosio, a Fabria. Un ventunenne di Rivarolo Canavese, a bordo di una microcar diretto a Fabria, ha perso il controllo del mezzo ed è andato a scantarsi contro il lampione. La mini auto si è girata in senso contrario alla direzione di marcia e il faro del lampione si è staccato cadendo sul mezzo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la croce rossa di Rivarolo Canavese, che ha medicato il giovane sul posto e poi l'ha portato all'ospedale di Quornier. Le sue condizioni sono parse stabili, non dovrebbe quindi essere in pericolo di vita. Intervenuti anche i tecnici dell'Enel per la messa in sicurezza del lampione. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS